Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo nel giardino dei frati minori Cappuccini e siamo accanto ad un'immagine di Padre Pio, quella che spesso vediamo nelle foto dove lui appare sorridente, quando viene rubata un po' la sua intimità in questi scatti che ci regalano il sorriso di Padre Pio, però dobbiamo mettere in evidenza e in risalto quanto i suoi confratelli spesso hanno attestato, quanto emerge anche da determinati fatti che venivano a verificarsi. Padre Pio amava riflettere molto per giungere alla verità, scrive Padre Pellegrino Funicelli, applicava la riflessione ai propri istinti, giungeva anche a qualche giudizio molto pesante nei suoi confronti. Infatti lui si definiva vizioso, bugiardo, delinquente, non perché voleva fare un esercizio accademico di umiltà, ma perché ne era convinto. Questo dunque era il concetto terribilmente negativo che Padre Pio aveva di se stesso. Ad esempio proprio a padre Bernardo da Pietrelcino, un suo confratello che un giorno non la finiva di elencare i propri difetti, Padre Pio disse smettila, queste cose le dovrei dire io, che la gente chissà che cosa crede che io sia. Ancora Enedina Mori, mentre Padre Pio si ritirava in convento dopo le confessioni, gli gridò padre io confido in te e lui subito replicò tu confidi nel nulla. Pochi anni prima di morire a delle figlie spirituali, pieno di confusione ebbe a dire il più grande delinquente è migliore di me. Un giorno padre onorato consegnò a padre una lettera di un sacerdote alquanto fastidioso, importuno e dopo che padre Pio lesse questo scritto, padre onorato disse, padre lei ha una bella pazienza a sopportare tutti, qualche volta imitando Gesù che caccia i profanatori dal tempio dovrebbe fare un fascio di funi a cacciare tutti, compresi noi che le stiamo attorno. E Padre Pio piuttosto serio disse ma che discorsi sono questi? Io sono un povero imbecille e aggiunse con grande realismo e già caccio anche voi così non mi reggo più in piedi e cado a terra. Grazie a tutti.